ciao a tutti bentornati canale led di stato per questa prova del galaxy note 3 con kit cat andiamo subito a vedere l'aggiornamento la 4 4.2 ufficiale via otta io non ho usato odin ma ho aspettato di installare da ieri disponibile l'aggiornamento ufficiale più che un aggiornamento a livello di touch with cioè grafico di rivedimento grafico è un aggiornamento per migliorare le prestazioni e la fluidità del sistema c'è anche qualche ritocco grafico ma più che altro è stato improntato sulla la fluidità e sulla miglioramento la stabilità del sistema operativo 4 4 2 andiamo subito a vedere la prima miglioria del dell'aggiornamento che è la possibilità scusate riaccendo la possibilità di entrare dalla fotocamera direttamente dal desktop praticamente da qua abbiamo la possibilità punto trascinando il tasto di entrare direttamente nella fotocamera quindi già dalla schermata di blocco schermo abbiamo la possibilità di rientrare direttamente nel nel praticamente nella nella fotocamera nella videocamera quindi una cosa in più comoda che ci ha dato subito un impatto grafico nuovo con il con l'icona della fotocamera qua in basso e la possibilità di entrarci subito altra cosa grafica visto che non sono molte le illustro subito sono le nuove colorazioni della barra di stato in alto come potete vedere è stile ios cioè tutto bianco sia nella colorazione bianca del wifi che ricevi i dati in uscita in età di un upload e download sia nella batteria che diventate di colore bianco quindi c'è questa possibilità di tenere di colore bianco e tutta la barra di stato a me sinceramente piace un po di più è un po più stile ios proprio stile architettonico a me piace di più come potete vedere vi faccio vedere è tutto bianco anche nella ricezione dei dati via wifi bluetooth eccetera eccetera infatti anche se andiamo poi qua è rimasto tutto verde la schermata appunto delle opzioni sono rimaste verdi sono cambiate anche graficamente i caratteri delle scritte qua appunto generali c'è la possibilità di avere appunto un carattere di base diverso infatti vedete che un aria alla diverso da prima quindi sono cambiate anche le i caratteri lo stile dei caratteri oltre ad avere appunto una nuova grafica vedete anche tutti tutto bianco e nero in stile architettonico come a me sinceramente io la preferisco poi ognuno può impostare quello che meglio che meglio crede altra cosa altra novità nel generale qua c'è la possibilità di impostare già dalle impostazioni il launcher predefinito e i messaggi quindi ci sono le applicazioni predefinite che prima ci chiedeva sempre tramite un'impostazione del sistema operativo automatica quando sceglievamo uno l'altro era un po scontro perché non c'era un impostazione predefinito dove noi potevamo entrare adesso abbiamo la possibilità dalle applicazioni predefinite di decidere se sarà launcher nuova o launcher originale o agent sms o i messaggi originali del di android la versione 4 4 ora possiamo vedere qua vedete 4.4.2 versione di android e poi tutto il kernel e l'aggiornamento di sistema sia lo stato ds per android sia la versione soft di protezione c'è tutta la release fino alla 10.2 altra cosa che è stata aggiunta poi al sistema operativo in generale sono delle novità sulla tastiera originale quella di default di samsung che adesso cambiando l'anno ce l'andremo a vedere ma visto le migliorie grafiche e le cose che vi ho già fatto vedere volevo far vedere appunto la fluidità che a me già prima per la eccezionale essere ancora migliorate di più in effetti è ancora più reattivo vedete il poi già 9 veloce di suo il sistema veramente operativo ha raggiunto dei livelli eccelsi non ci sono in puntature o sorti di impuntamenti e quindi la reattività è sicuramente superiore adesso un attimino ancora e cambierò vi porterò sul launcher originale per vedere come si comporta anche la tastiera eccoci tornati parlavamo del launcher originale appunto questo è il launcher originale con kit kat la 442 come vedete a livello grafico c'è poco rivedimento più o meno è rimasto tutto simile molto più reattivo anche qua comunque come potete vedere la fluidità migliora sia dal punto di vista della dashboard sia del del menu chiaramente launcher nova un altro un altro spunto un altro passo ma quello che volevo far vedere del launcher originale era appunto la possibilità della scrittura perché abbiamo delle novità nella tastiera adesso aprirò una scrittura qualunque per farvi vedere le novità ci sono queste nuove icone molto carine e queste emoticon scusate che sono stati implementati dentro vedete ci sono simboli ci sono animali ci sono altri oggetti vari ci sono altre animazioni soprattutto ci sono anche i segni zodiacali che sono molto carini dello dello zodiaco è tutto molto carino quindi è stata aggiunta questa questa novità di queste emoticon alla tastiera non che c'è sempre la scrittura swipe e la classica tastiera stock di android questo è quello che diciamo la novità principale perché poi qua sopra il rivedimento grafico le altre cose ve l'ho già fatto vedere ma più che altro era la tastiera che era stata modificata con queste emoticon nuovi per tornare al launcher come avevo spiegato c'è anche la possibilità di scegliere direttamente le impostazioni quindi non non siamo più obbligati ad andare a fare altre operazioni quindi basta entrare nelle impostazioni troveremo la possibilità nel generale anche di avere le applicazioni predefinite in questo caso io alla home metto nova launcher e ritorno praticamente nel nel launcher nova è molto semplice molto più comodo secondo me rispetto a prima praticamente quindi impostando di default il launcher nova io automaticamente torno a a nuova launcher e adesso lui automaticamente non mi chiederà più quando esco di ritornare alla tagli originale praticamente di home ecco a grandi linee questo è tutto quello che che criticata ha portato più che altro è sicuramente un miglioramento della stabilità e della fluidità di sistema come vi ho detto poi c'è la posizione tra con la fotocamera la nuova rivedimento della barra di stato qua sopra con la nuova colorazione cromatica i nuovi emoticon nella tastiera ci sono le impostazioni di predefinite come launcher che si possono anche applicare e poi ci sono altre piccole migliorie che adesso non sto a dire che solamente delle inezze le potete trovare comunque poi cercando la scheda comunque tecnica di tutti di tutto quello che ha portato all'aggiornamento queste sono le principali più importanti secondo me cose che sono state implementate il grosso il grosso la grossa implementazione quella parito ways la grossa implementazione comunque sicuramente a livello di stabilità di sistema e di e di fluidità generale dal canale led di stato paolo guala alias led di stato è tutto grazie come sempre ci vediamo le prossime sul canale e su facebook grazie ciao